ciao ciao a tutti sono qui per fare un piccolo video vlog per farvi vedere cosa sto combinando allora più che altro voglio fare questo video perché voglio farvi vedere come ho usato gli occhi di Santa Lucia siccome domani li devo portare questi li regalerò a mia zia che mi ha regalato tutti quegli occhi e quindi questi i primi sono per lei volevo farvi vedere cosa ho pensato una cosa semplicissima perché lei comunque usa solo orecchini al lobo e anche piccini ma comunque volevo fare una cosa semplice perché volevo dare risalto solo all'occhio di Santa Lucia quindi niente ho usato queste due piattine di obiperline sono quelle bianca e quella bianca è oro con la brillante non mi ricordo quale boh non mi ricordo scusatemi e poi niente due cipollotti arancioni e basta questo è il lavoro questo è il retro io ancora con i retri sono faccio schifo per non dire altro ecco vedete ho messo un perno in acciaio questo è il lavoro cosa ne dite a me sinceramente piacciono tantissimo proprio perché sono semplici non hanno cioè risalta proprio il centrale basta ok quindi questi ho fatto il video vabbè per fare due chiacchiere ma soprattutto per farvi vedere loro poi ho ripreso in mano un progetto allora credo che sia il mio primissimo progettino con le perline inventato da me che non è niente di che però ve lo volevo far vedere perché pensavo di farci un tutorial è una stellina a cinque punte è semplicissimo questo l'ho realizzato vabbè è nato così con le perle per fare i cipollotti poi ho provato a realizzarlo per farne il tutorial con i con i bicono da 4 vabbè questi sono irregolari quindi però non mi piace poi magari voi provatelo con quelli più regolari quelli più belli questi li ho presi dagli indiani infatti si vede anche occhio nudo che fanno cioè non sono uguali perciò penso che registrerò il tutorial facendoli con i cipollotti da 4 che mi risulta mi risulta un po' meglio non lo so adesso devo vedere comunque vedo adesso qua sono un po' lo devo sistemare boh perché non mi piace boh vedrò insomma comunque se vi interessa se vi piace ditemelo io si alla fine lo registrerò comunque il tutorial perché magari può essere utile per qualche ragazza le prime armi poi comunque le cose semplici come dico sempre piacciono perciò questi sono proprio carini questi colori qua mi piacciono tantissimo sono proprio carini e quindi queste sono le cose che sto combinando poi poi ho provato il filato vi ricordate il filato che avevo comprato da Ubi Perlina ecco qua il primo lavoro che ho fatto allora questo è molto sottile quello grigio che era il più sottile che aveva acquistato è più sottile di un cottone da 16 secondo me infatti il lavoro è venuto proprio piccino mi piace devo dire è un po' scivoloso però si lavora abbastanza bene quindi mi piace come consistenza sì sicuramente è un po' più consistente del cottone poi vabbè qua rimane molle perché allora qua ho sbagliato ho fatto il pipiolino troppo largo perciò vedete che si è un po' allargato anche io faccio le cazzate naturalmente non solo chi ha le prime armi e poi sicuramente lavorare con l'ago il lavoro viene più morbido quello è poco ma sicuro prima o poi imparerò a lavorare anche con la navetta però diciamo che mi piace la consistenza sicuramente è migliore del cottone poi voglio provare quello più spesso e magari ne riparliamo in un altro video meglio così posso dare un parere migliore perché ho fatto il confronto anche con l'altro più spesso e quindi queste sono le cose poi mi è arrivato un ordine da Aliexpress che non aspettavo così in fretta in effetti però ora vi faccio vedere perché sono veramente soddisfatta dai prodotti che ho acquistato allora ho preso tutto in un in un in un negozio no no non era con gli sconti ma la scrivania ha un caos totale ve lo lascio sfocato così non lo vedete bene anche se lo vedete lo stesso comunque dicevo ho acquistato tutto nello stesso negozio non era con gli sconti perché ho acquistato pochissimo un mesetto fa credo allora aspettate che blocco un attimo il video ok ho bloccato il video perché vi voglio dire anche i prezzi di quello che ho acquistato e poi magari vi metto il link del venditore sotto nell'infobox se vi può interessare allora ho acquistato queste goccine qui si vedono abbastanza bene non ho trovato un prodotto difettoso da dire non lo posso usare vi dico già quindi anche per questo sono soddisfatta allora queste goccine qua sono 10 pezzi e le ho pagate 94 centesimi e le ho prese di questo colore perché le volevo provare e poi le ho prese anche nere sono davvero molto belle vabbè dentro le bustine forse è meglio che le apro ve le faccio vedere un po' meglio allora quella è nera e questa non si vede una cipalippa vediamo l'altra eccola qui ok quindi queste sono proprio belle quindi 10 pezzi 94 centesimi poi ho preso questi rivoli in resina questi dovrebbero essere 10 millimetri 50 pezzi e le ho pagate 1 euro e 44 sono davvero bellissimi super luminosi anche se sono in resina ci sono diversi colori vediamo se riusciamo a vederli tutti e vabbè mi cadono c'è praticamente adesso mi sono usciti tutti i colori uguali c'è il verde il bianco allora vediamo un po' c'è il verde il bianco il blu il lilla il fucsia il viola eccoli qua cioè nonostante siano in resina sono davvero luminosissimi questo qui cioè che di solito quando li compri mi fanno schifo invece sono proprio belli sono molto molto soddisfatta di questi adesso vedremo quando eh vabbè li butto dappertutto lasciamo qui lasciamo perdere poi li ho preso in vetro allora in vetro li ho presi ehm sono 20 pezzi dovrebbero essere da 12 non vorrei dire cavola si 12 mm 20 pezzi 1 euro e 06 ho preso questi crystal che sono di un luminoso pazzesco tiro fuori un paio adesso naturalmente non si allora vediamo così sono luminosissimi si vedono anche tutti insieme poi li ho presi di questo sì vabbè io sto lanciando tutto tutto dappertutto ho preso questo colore qua un po' particolare cioè vabbè un colore che dovrebbe dire sono proprio belli allora questo vediamo che colore dice dice brown marron bellissimo e poi ho preso il nero il classico nero anche questi sono bellissimi poi vabbè questi qua un verso l'altro è uguale e quindi per tutta questa roba qua alla fine ho speso 6 euro e 48 secondo me ce ne vale la pena anche perché sono bellissime leggendo le recensioni anche delle altre ragazze anche italiane ho visto delle bellissime recensioni ecco perché ho deciso mi sono decisa ad acquistarli va bene questo è quello che sto combinando vi faccio vedere anche un paio di orecchini poi magari li rivedrete meglio eccoli qua i miei orecchini blu al soutash li ho fatti di questo colore con un bottone con un bottone in stoffa mi piacciono tantissimo poi magari ve li farò rivedere meglio in un video creazioni se non li regalo o li vendo prima e poi vabbè ho fatto anche qualcos'altro però non ve lo faccio vedere altrimenti poi vi faccio vedere tutto qui non posso registrare un video creazioni era giusto per farvi vedere questi e poi vabbè la stella se volete se vi interessa il tutorial vabbè io lo registrerò lo stesso perché ormai ho deciso così adesso magari qualcuno mi scriverà sotto ma chi se ne frega non farlo va bene niente purtroppo non sono riuscita a registrare un video prima per dirvi che la mia amica Lisa Lisa Art qua sul tubo e anche su facebook stava facendo un contest ora non mi ricordo quando scade se scade domani non faccio in tempo comunque vi lascio il link sotto nell'info box perché potevate realizzare delle creazioni lei visto che non aveva fatto tutorial aveva deciso di mettere alcune sue amiche che fanno tutorial quindi anche io ero tra quelle ragazze che potevano cioè che praticamente ero una di quelle di beh adesso non so parlare stasera vabbè potevate decidere di realizzare un mio tutorial insomma spero che qualcuno l'abbia fatto perché mi farebbe tanto piacere per partecipare al suo contest vi lascio il link sotto al suo canale perché lei è carinissima e quindi mi fa piacere se vi iscrivete ringrazio tutti i nuovi iscritti perché ho visto che ho superato i 7000 e questo mi fa un gran piacere io vi ho detto che avrei fatto un contest ai 10.000 ma forse ci mettiamo troppo così ora vediamo magari più avanti registrerò o vi farò un piccolo regalo anche per incentivare incentivarvi ok basta smetto di blatterare vi saluto spero di avervi fatto un po' di compagnia vi mando un bacio e ci sentiamo al prossimo video ciao ciao